buonasera per noi con noi questa sera un gradito ritorno perché con lui avevamo iniziato questa serie di trasmissioni e con lui andiamo avanti non le terminiamo però andiamo avanti perché era giusto a riportarlo qui da noi invitarlo nuovamente è accettato l'invito che noi e noi lo ringraziamo leonardo latini buonasera allora come devo chiamarlo ex sindaco avvocato consulente basta leonardo buonasera grazie per l'invito sempre gradito intanto io giro la clessitra perché se no l'avevo già girata da bene cominciamo dalla fine questa storia della consulenza che l'ho vista abbastanza imbarazzato quando il sindaco ha detto che sarà consulente dell'amministrazione per i prossimi sei mesi beh sono le immagini è che lo testimoniano diciamo che io ero andato per il classico scambio di cortesia diciamo la stretta di mano nel passaggio di consegna tra l'altro come avevo sottolineato in quell'occasione era un qualche cosa di particolare no nella storia di terni perché da quando esiste la legge sull'elezione diretta dei sindaci una situazione come questa non si era mai verificata perché nel 93 vinse ciaurro subito dopo replicò il successo nonostante la famosa nata la zoppa che lo portò purtroppo a durare solamente un anno e mezzo quindi arrivò il commissario quindi il passaggio di consegna col sindaco successivo che era paolo raffaelli avvenne con il commissario pensato paolo raffaelli passaggio simbolico di testimone con di girolamo quindi una continuità che arrivava all'esito di due mandati che paolo raffaelli aveva fatto e poi c'è stato il dissesto quindi nuovamente l'arrivo di un commissario e il mio passaggio di consegna è stato fatto con il commissario quindi era la prima volta che si verificava il passaggio di consegna tra due sindaci di schieramenti diversi e quindi era un po' era un po' un identito devo dire non mi sarei mai aspettato che in quella sede potesse arrivare alcuna proposta quindi l'imbarazzo era soprattutto dovuto a quello io avevo già avuto modo di parlare con il sindaco bandecchi dicendo che c'erano delle questioni particolarmente importanti per la città su cui non era il caso di avere ritardi o interruzioni di sorta perché era la città nel suo complesso che ne avrebbe risentito in maniera significativa noi viviamo una fase di passaggio adesso ci sono tutti i progetti pnrr da mettere a terra c'è l'accordo di programma con l'ast ci sono le vicende legate alle società partecipate che devono essere in qualche modo stabilizzate e continuare in quest'opera che è stata di crescita ne ha cambiato già uno si ne ha cambiato uno era nelle sue facoltà ovviamente perché era scadenza era scadenza con il mandato del sindaco quindi e poi c'era del sindaco inevitabilmente sì perché poi le società partecipate i criteri sono ovviamente quello della capacità e professionalità ma anche della fiducia che un sindaco riveste in chi va a ricoprire quindi per sintetizzare non sarà consulente ma insomma se avranno bisogno di qualche chiarimento sanno dove trovarla sì credo che che la città non possa in alcun modo perdere le occasioni che in cinque anni in maniera abbastanza faticosa sono state intercettate questo proprio a beneficio a beneficio di terni della nostra città e di tutti quanti ternani ma anche come riconoscimento del lavoro che è stato svolto in questi cinque anni riavvolgiamo il nastro dopo le elezioni sono passate finito tutto quindi il periodo della riflessione penso sia terminato si sarà fatto un'idea come è potuto succedere ma io credo che ci sia stata una sottovalutazione dei fenomeni e per comprendere quelle che sono le dinamiche di una città occorre viverla e occorre soprattutto parlare con le persone però anche la conoscenza della storia è fondamentale per capire quelli che possono essere i processi i possibili approdi terni è stata sempre una città oggetto di sperimentazioni per certi versi l'abbiamo visto nel periodo del partito comunista no che aveva fatto una serie di sperimentazioni sul sulla nostra città ecco io non voglio interrompere ma qui la sperimentazione è stata fatta all'interno del suo partito all'interno della sua coalizione perché però non c'erano dubbi non sembrava non ci fossero dubbi sulla sua riconferma fino a un anno e mezzo fa insomma l'ultimo partivo proprio dalla sottovalutazione dei fenomeni perché secondo me c'è stata una sottovalutazione del fenomeno alternativa popolare del fenomeno bandecchi nel suo complesso e andare a vedere la storia di terni invece avrebbe secondo me dovuto portare a una ponderazione diversa di quelle che potevano essere le situazioni e quindi anche a scelte diverse che avrebbero potuto privilegiare la continuità effettiva anche dal punto di vista personale rispetto al buon politico la prende larga io vado più vado più diretto fenomeno bandecchi adesso lasciamolo per un attimo da parte però non è il fenomeno il fenomeno è il fenomeno lega il fenomeno lega che abbiamo detto scritto letto di tutti i movi che ad un certo punto una parte della lega si mette a fare i dispetti diciamo così a un'altra parte che a quella che governa e quindi si crea una frattura all'interno di quella di quella compagine che era salita al al primo piano di palazzo spada con con un consenso incredibile e allora lì cosa è successo perché quello è stato il momento in cui è saltato tutto perché poi dopo ci sono stati tentativi di rimettere insieme i pezzi facciamo sono venuti fuori nomi alternativi di altri soggetti fino ad arrivare a masselli candidato i fratelli d'italia con i vertici nazionali che si riunivano a roma salvini la meloni un bel trambusto per terni assolutamente sì no la genesi l'hai individuata quantomeno quella più prossima poi ci saranno state sicuramente delle questioni politiche remote da analizzare da da vedere però è chiaro che nel momento in cui c'è stata quella frattura tra chiamiamola una parte della lega che era la lega di governo e una parte dei consiglieri comunali quello è il momento in cui si è pensato di invertire processi e pensare a soluzioni alternative e in quel caso è ovvio chi aveva la maggioranza relativa uscita dalle urne da poco ha pensato di potersi inserire per dare il proprio chiamiamolo contributo anche personale rispetto a quelle che potevano essere delle scelte sulle candidature però questo nasce come dicevo prima dal fatto che c'era una eccessiva sicurezza rispetto a quelli che potessero essere gli esiti delle urne io avevo che la sinistra comunque non trovava accordo con i cinque stelle quindi doveva rimettersi in sesto perché bandecchi era la novità però insomma sì l'avevano un po' relegato secondo me nel folklore come dicevo prima invece sottovalutando quello che era il portato politico di una novità che ha sempre come tentavo di dire prima attecchito sul nostro territorio penso a quello che è stata la nascita di forza italia perché il primo embrione di forza italia è stata quella giunta ciaurro nel 1993 tant'è che poi ciaurro detto un contributo determinante la nascita di forza italia così come il fenomeno lega nazionale ha trovato l'espressione più grande nel primo capoluogo di provincia sotto il po amministrato da un sindaco della lega che era appunto terni una prima città dell'amministrata lega sopra i 100 mila abitanti quindi anche in quel caso noi siamo stati un po come posso dire l'alfiere di quello che è stato poi un processo politico e anche in questo caso c'erano secondo me le condizioni io lo avevo detto per cui si poteva arrivare anche ad assistere a un qualcosa di diverso sul nostro territorio la continuità secondo me avrebbe sicuramente portato a un esito diverso rispetto a quello che è stato l'esito delle urne di pochi giorni fa perché comunque sia la giunta che ho avuto l'onore di guidare aveva fatto secondo me un grande sforzo in un periodo complicatissimo per approdare tantissimi risultati quindi la continuità avrebbe garantito molto probabilmente quella continuità anche amministrativa di cui secondo me la città avrebbe avuto bisogno una cosa strana di questa di questo mondo no qualche mese fa perché noi la prima volta ci siamo trovati qui in gennaio non mi ricordo il mese preciso e io faceci una domanda tutti le chiedono un cambio di passo uno scatto in avanti adesso tutti dicono ma con leonardo latini candidato avremmo vinto le elezioni senza colpo ferire anche al primo turno qualcuno si sbaglia qualcuno ha preso un abbaglio in questa in queste fasi oppure lì c'era già la voglia di mettere in discussione perché poi bisogna pensarle tutte no perché sai com'è si arriva da una parte dall'altra la stessa voce di un rizzale antenne dice ma niente niente che ma io il cambio di passo sinceramente l'ho sempre visto come uno sprone a fare sempre meglio no nel senso ma non il cambio di passo abbiamo impresso sin dai primi giorni in cui avevamo preso possesso di palazzo spada per noi voleva uno più battaglieri come bandecchi no facciamo la guerra a perugia ma terni secondo me ha bisogno di una pacificazione e di riconoscersi come comunità coesa tutto quello che crea fratture e tensioni a mio avviso è controproducente per la città stessa perché è una città che ha necessità in maniera forte di capirsi comprendersi per poter capire comprendere quelli che possono essere i processi di crescita sociali ed economici perché io ho avuto l'onore di guidare la mia città che è un qualcosa di straordinario che capita a pochi privilegiati e di capirne a fondo le grandissime potenzialità e le capacità dei nuovi cittadini ternani che sono straordinarie solo che occorre la consapevolezza di quello che siamo per capire che cosa siamo quindi quali sono i nostri limiti ma anche quali possono essere dei percorsi che insieme possiamo in qualche modo intraprendere è necessario che la comunità sia più possibile coesa all'interno di quello che è una dinamica storica intorno a quelli che sono le istituzioni che non è soltanto il sindaco ma sono le istituzioni nel suo complesso le forze dell'ordine il prefetto il questore e anche i punti di riferimento all'interno di quello che è una città penso ad esempio all'ast quindi che hanno un ruolo non soltanto economico ma anche sociale e identitario quindi credo che la città avesse bisogno di questo e continuo a credere che la città abbia bisogno di questo perché se si vuole andare in una direzione che è quella di uno sviluppo della nostra città che sia coerente con quelle che sono le nostre capacità e la nostra storia a proposito di coerenza il neo sindaco in più di un'occasione l'ha attaccata durante la sua consigliatura dicendo che insomma dormiva un po io semplifico dormiva un po su certi atti doveva essere più più deciso più intraprendente doveva andare insomma a far sentire la propria voce e soprattutto sbrigarsi a fare le cose no che la ternana ha ragione chiedeva adesso attacca la lega dicendo ma insomma avete fatto la guerra alla fine che le offre un rapporto di consulenza la coerenza dove sta ma faceva parte un po di persa per strada faceva parte di sia il gioco della dialettica politica sia ovviamente quello dell'interesse di parte no perché sembra la speranza che la gente non abbia memoria la memoria i cittadini ternani ce l'hanno secondo me ce l'hanno sempre avuta e ce l'hanno ce l'hanno forte e sempre faccio un esempio banale sempre forte nella memoria nostra collettiva per esempio ricordo il professor ciaurro gli esordi quello che è successo e anche la fine del professor ciaurro quello ce lo dovremmo sempre ricordare io quando dicevo in tante riunioni in tanti incontri ricordiamoci quello che è successo al professor ciaurro perché noi dobbiamo avere un rapporto ordinato con quello che è il potere capire che cos'è il rapporto con il potere che secondo me è semplicemente mettersi a servizio della propria comunità questo è il rapporto sano che bisogna avere con chiamiamole le stanze dei bottoni se si pensa ad altre logiche poi si approda in verso quelle che sono esiti purtroppo in fausti come quelli occorsi al professor ciaurro oppure magari più banalmente quando ha capito che che l'avevano tirato giù dalla sedia beh io diciamo che ho provato in tutti i modi perché avevo detto che se non ci fossimo stati noi non soltanto io ma soprattutto la mia squadra che mi ha supportato in questi anni il rischio di sconfitta sarebbe stato molto 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 alto l'avevo detto l'ho ripetuto e insomma c'è stato un momento particolare una frase particolare un intervento particolare quella lampadina che già cominciava ad accendersi è esplosa è stato tutto tutto un processo certo nel momento in cui ho capito che il problema potevo essere io come come persona quindi si facevano dei nomi alternativi anche all'interno dello schieramento anche da parte del mio partito ho capito che probabilmente lì c'era un qualche cosa che difficilmente poteva essere recuperato anche se come dicevo io nell'interesse della città ma anche devo dire più personale perché mi sarebbe piaciuto proseguire per perché dopo che un asseminato anche no raccogliere quelli che sono i frutti del lavoro di apprendimento del nuovo lavoro no perché non è che uno che fa l'avvocato come lei si mette seduto sulla sedia del sindaco e un istante dopo sa fare il sindaco in modo straordinario ci vuole una fase di ambientamento anche all'interno della macchina amministrativa che bisogna conoscerla bene ci vogliono mesi anni per capire per entrare bene nei meccanismi bisogna conoscerla e rispettarla perché la cosa pubblica ha i suoi modi e i suoi tempi però con i suoi modi e i suoi tempi si raggiungono sempre i risultati che uno vuole mettere in campo questo credo che sia necessario cioè io facevo l'avvocato un'associazione professionale lo studio dipendente insomma quello che è il classico mondo del professionista quindi proiettato nel in comune io ho una piccola esperienza come consigliere circoscrizionale dei due mandati del professor ciaurro quindi ma non avevo una conoscenza effettiva di quella che era la macchina amministrativa poi erano passati tanti anni e quindi bisogna sicuramente comprendere soprattutto quelli che sono i meccanismi attraverso cui si fanno le cose devo dire che io ho trovato all'interno del comune delle persone straordinarie con delle capacità veramente grandi con una passione una dedizione verso quello che è il senso d'appartenenza e l'orguglio di fare i dipendenti comunali che io non avrei mai immaginato e questo ci ha aiutato tanto i risultati che abbiamo raggiunto sono stati frutto soprattutto del grandissimo lavoro che tutti quanti hanno fatto all'interno del comune però per arrivare a questo occorre occorre conoscere occorre comprendere e corre in qualche modo fare in modo che i processi sia quelli politici che quelli amministrativi vadano di pari passo in qualche modo coordinandosi quindi secondo me c'è stata necessità di un periodo di adattamento poi noi abbiamo cioè è tanto diversa la situazione io quando ho preso il comune dobbiamo ricordarci che c'è stato un periodo travagliatissimo c'erano stati gli arresti nel novembre 2016 quindi l'attività amministrativa era stata rallentata se non addirittura paralizzata poi c'era stato il dissesto quindi strano queste cose tutto finito in una bolla di sapone perché poi non c'era niente tutti assolti ringraziando come io ritorno al mio mestiere d'avvocato mi ritorna questa questa salto un po di quali in frasca questa protesta dei sindaci contro legge severino che è andata in scena settimana scorsa a norcia a sindaco di norcia che fa a giusto sostegno del sindaco insomma tante volte quando si attaccano gli amministratori e bisogna anche sapere che gli amministratori il sindaco in modo particolare risponde di tutto anche di quello che non sa di quello che non conosce no perché non può conoscere tutto quello quindi io dico se faccio un esempio stupido se bruciano all'incenditore una cosa che non debbono bruciare il sindaco non può saperlo poi magari però ci fanno inchiesta il sindaco è il primo che viene chiamato detto detto questo detto questo prima di chiedere come sarà adesso la vita di leonardo di leonardo latini un'ultima curiosità si è parlato nei giorni scorsi cioè nei giorni scorsi nella fase in cui la dimisì latini no di incontri a roma di salvini che prima batte i pugni no latini non si tocca poi salvini che diciamo lo tocchiamo però guai a toccare che sei alla regione cosa c'è di vero in tutto questo io penso parecchie cose per come va la politica ci siano di vera no ma sì ma io non credo non credo perché comunque sia un po l'esperienza di terni due sono già pagato anche l'attenzione sembra troppo no dovrebbe insegnare che i percorsi si costruiscono quindi per tempo e con i modi giusti ma adesso conoscono il fenomeno bandecchi quindi sono allertati lo conoscono ma secondo me continua esserci una sottovalutazione io invece che bene o male da sindaco ho il contatto diretto con le persone capisco che ci sono ci possono essere gli sviluppi quindi occorre fare i conti con quello che è un fenomeno politico apparso in maniera dirompente negli ultimi mesi ma che è diventato una realtà sul nostro territorio e che secondo me sarà una realtà con cui confrontarsi anche se nel resto del lume quindi conoscendo quelli che sono i presupposti conoscendo i modi secondo me occorre costruire un percorso nel rispetto anche di quella che era con un tappo volare certo e poi vince perché ha votato non si può discutere esprime il popolo esprime anche se a votare c'era sempre meno gente però insomma una cosa ha detto una cosa giusta tra le tante erano non voglio dire ha detto solo questa giusta insomma avrà detto anche altre però bandecchi hanno dato soltanto 20 mila ternani su 87 mila che potevano andare a votare quindi il dato il dato fa riflettere no ma assolutamente fa riflettere ma fa riflettere quella che è una crisi generalizzata della politica che coinvolge della destra coinvolge la sinistra coinvolge un po quello che è stato un processo anche disintermediazione che è stato portato avanti negli ultimi anni e che ha interessato anche i partiti politici che devono tornare a fare il loro ruolo il loro mestiere nell'ambito di quello che sono le prerogative costituzionali perché se noi non torniamo a quello che è anche l'assetto costituzionale quindi a quello che è la legge fondamentale che dovrebbe regolare il nostro vivere civile e politico sicuramente faremo faremo un torto in primo luogo a noi stessi i partiti politici devono tornare ad essere fucine di idee confronti debono soprattutto essere i soggetti in grado di selezionare la classe dirigente con i giusti criteri di merito perché noi parliamo sempre di merito ma ce li scordiamo spesso in alcuni ambiti e lo utilizziamo a sproposito in altri ambiti soprattutto occorre secondo me tornare a un discorso completamente diverso perché negli ultimi periodi ho visto che la politica si fa trascinare da quello che è la pancia invece la politica deve guidare quelli che sono i processi io credo che la politica vada anche studiata prima di entrare in politica occorre leggere occorre studiare io ricordo io stato segretario di un movimento giovanile il mio segretario nazionale che veniva spesso 16 anni poco più veniva spesso a terni mi portava 12 libri e c'è adesso questi di leggi e poi dopo ne parli poi dopo ne parliamo cose che questo che non succede tanto spesso devo dire ma conoscendo quelli che sono un po i pilastri insomma non è che c'è bisogno di di una scienza però capire quali possono essere i processi è fondamentale anche per evitare gli errori quindi leggere studiare secondo me è fondamentale ma soprattutto ecco riscoprire quello che è il senso effettivo della politica deve essere collegata al popolo perché la sovranità appartiene al popolo articolo 1 della costituzione quindi non si può in qualche modo fare altro rispetto per rappresentare la volontà popolare ma questo non significa andare dietro a quello che possono essere le pulsioni immediate devo dire che la disintermediazione c'è stata anche negli strumenti di comunicazione facebook è l'emblema di questo spesso porta a processi decisionali invertiti e questo secondo me la fine vera della politica cioè quando parliamo di antipolitica secondo me dobbiamo soprattutto andare a concentrare l'attenzione su quello ritornando sulle elezioni questa è una frase mia l'antipolitica non è bandecchi e l'antipolitica è il modo di fare politica oggi che si fa soltanto o molto spesso tramite social con la stretta di mano camminando risolvo il tuo problema che problema e te lo risolvi in un attimo non è questa la politica politica un'altra roba è una roba che che impone studio impone conoscenza della città che amministri della nazione che governi perché senza questa base secondo me insomma fai delle cose che poi finiscono rapidamente e rapidamente ne arriviamo anche alla fine solo domande proprio botta e risposta gli ultimi atti del oi primi atti della nuova giunta lo stop al verdi è quello che fa un po riflettere stiamo ancora discutendo su quale tipo ma di teatro fare ma i lavori sono stati assegnati si è il processo amministrativo è concluso è stata anche la conoscenza sottoscritto il contratto ma occorre conoscere anche lì quella che è la storia recentissima di quello che è stato l'iter che ha condotto poi ad avere il progetto l'iter ha durato una vita l'iter è durato una vita quando siamo arrivati noi c'erano questa diatriba tra chi voleva il teatro all'italiano polettiano di un teatro diversa contemporaneo nuovo e c'era ma noi abbiamo dovuto fare i conti con quello che era il dato imprescindibile che era io faccio nel tecnico da sindaco si può cancellare un contratto bloccare tutto e dire ci siamo sbagliati ne facciamo un altro quanto può costare il comune tanto tanto perché poi ci sono le cause tanto in quel caso ci sono 22 milioni sudatissimi che abbiamo in qualche modo preso e che ci consentono di completare il teatro quindi di ridare ai cittadini un teatro nel corso di quelli che sono i tempi molto ristretti che il pnrr impone 2026 perché una parte dei finanziamenti sono finanziamenti pnrr e quindi quelli devono essere messi a terra con le cadenze che il pnrr impone e poi soprattutto ci sono eventuali cause che potrebbero fare i soggetti che hanno vinto le gare che poi sono stati contrattualizzati quindi ma soprattutto poi c'è da fare due considerazioni uno c'è un vincolo alla sovrintendenza che impone quello che può essere un ritorno a quello che era lo stile polettiano per una serie di ragioni di stratificazioni adesso non vabbè insomma però si arriva a quella destra io non discuto due che comunque è stato fatto un percorso con un progetto un concorso internazionale di progettazione che ha visto partecipare tanti studi tanti architetti non soltanto italiani e che ha avuto secondo me un esito di un teatro contemporaneo bellissimo per quanto mi riguarda e che secondo me meriterebbe una sua realizzazione nei tempi che noi avevamo previsto cosa farà leonardo ladini da anzi cosa cominciato a fare dalla settimana scorsa leonardo ladini e ha chiuso con la politica oppure è sempre lì sempre impegnato comunque in politica hai visto mai anche per un futuro io sono tornato a fare quello che ho fatto fino al 2018 quindi sono tornato nel studio legale che tra l'altro non avevo chiuso quindi non avevo più fatto attività però abbia ragioni perché l'esperienza da sindaco era totalizzante ma insomma lo studio legale l'avevo sempre conservato quindi sono tornato a fare quello che faccio avvocato sì con un bagaglio devo dire di esperienza significativa che secondo me non può che essere utile anche nello svolgimento dell'attività professionale poi la politica fa parte di me perché io ho iniziato ricordo sempre che esisteva ancora il muro di berlino a fare politica quindi parliamo di tanti anni fa è un qualche cosa che sento dentro anche se magari ecco tanti i momenti della mia vita non ho mai fatto politica attiva hanno fatto il consiglio circoscrizionale con ciauro dopodiché non mi sono dedicato ai miei percorsi professionali però la politica in qualche modo sempre fatto parte della mia vita magari sotto forma di meta politica o di riflessioni di una ricandidatura latini alla regione in comune sembra molto prematuro adesso che ancora devo in qualche modo fare i conti con quello che in famiglia sono contenti ha smesso di fare il sindaco così la probabilmente sì anche se poi dopo io riprendo magari quella miriade di interessi che c'ho sempre avuto quindi quindi non cambia niente cambia quindi dirai tanto pare che facevi il sindaco sarebbe stato meglio no se almeno dai un senso a quello che era no però è ovvio che adesso già per dire con i figli sono riusciti a passare tre giorni nel settimana lungo e loro saranno particolarmente contenti cosa si aspetta un atto a cui tiene in modo particolare dalla nuova giunta beh io non parlo di incompatibilità queste robe le lasciamo alle riflessioni dei tecnici e dei giudisti il consiglio comunale dopo le relazioni varie io spero che non vada veramente dispersa l'eredità che abbiamo lasciato che è fatta di buon senso e di progetti già predisposti ce ne sono tanti abbiamo un piano triennale delle opere pubbliche da oltre 100 milioni che terni non ha mai visto ospedale stadio clinica questo dopo ci torno quale quale dopo torno anche su questo faccio scegliere uno uno di tre beh per me l'ospedale fornale ospedale sicuramente fondamentale questo non significa che noi non abbiamo portato avanti con i tempi anche molto accelerati rispetto a quelle che potevano essere le tempistiche ordinarie tutto quello che è stato l'iter del progetto stadio clinica perché secondo me ha una sua valenza importante per il nostro territorio però è ovvio che se io devo scegliere scelgo il nuovo ospedale anche lì è stato un progetto che abbiamo seguito come amministrazione comunale anche se non avevamo un ruolo attivo sia come sostegno sia come pungolo in determinate occasioni c'è un progetto di finanza in piedi speriamo che si concluda a breve leader e che possano partire quanto prima i lavori perché terni ha sicuramente necessità di un nuovo ospedale così come tante volte è stato ripetuto anche dalla nostra presidente io ringrazio leonardo latini ex sindaco non futuro consigliera sicuramente avvocato e magari ci ritroveremo qui per parlare di altre questioni che non riguardano la vita amministrativa ma riguardano magari la vita professionale insomma molto volentieri restiamo a terni buona vita leonardo latini grazie a voi che ci seguite l'appuntamento ovviamente con la nostra trasmissione è per la prossima settimana fra sette giorni giovedì 30 minuti con buonasera grazie a tutti a a a a grazie a